Ero Trove Ragazze e ragazzi rieccoci qua su Niel Replica nella nostra terza run Andiamo avanti spediti nel primo episodio Abbiamo fatto tutta l'introduzione, siamo sempre ripartiti dalla seconda parte del gioco Siamo, oddio abbiamo battuto sì il primo boss, abbiamo battuto Gretel Adesso è venuto qua il cumulo di ciarpame Abbiamo preso le regole di memoria, abbiamo dato il compito di costruire l'arma Che poi è quella che stiamo usando Adesso stiamo andando verso la foresta dei miti Altro da fare non c'è Siamo super forti in un certo senso, almeno per il momento E sì, la foresta è di qua, no di qua No, aspetta Di qua, di qua Adesso magari andremo avanti anche qua veloci nella lettura Anzi non leggerò praticamente nulla Anzi non leggerò Anzi non leggerò Anzi non leggerò Anzi non leggerò No, non leggerò Ok, ma Già la seconda volta Mi sono messo a leggere Tutto il testo Ma poi alla fine si è rivelato uguale Alla prima run Quindi anche qua Ah E' un'altra cosa? E' un'altra cosa, ma... Parole d'amore Si spendono tutte nelle tenebre come gemme Le parole erano poche Ma anche il tempo era limitato Afferrando le parole l'albero disperato si rivolse al cielo Tutto sbagliato Il solo albero con la voce del vento tra le foglie Non è così che doveva andare Il piano è fallito Aspetta Ricordava tutto Forse si è uguale Uguale Perché io ho paura sempre Sto leggendo Si ma deve essere Madonna Si ok Si 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 ok Possiamo andare avanti Si si stessa cosa Sempre quello La fanciulla Si del ragazzo della fanciulla me lo ricordo Si si ok Una guerriera ok Adesso vediamo se mi ricordo la risposta Poi c'era anche il ricordo del drago rosso E quello è no E quello non me lo ricordo Ok Aspetta L'invidia era verde Questo 33 No era 63 Era 63 Aspetta Era 63 Mi sono ricordato male Ok Ok Ti fa rifare tutto Bla 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 Mi pare 63 Mi pare 63 era Qua verde Ah no Non ho letto Ma scusa Aspetta No Mi è abbaiato Ma scusa Dovevi leggere Devo leggere la domanda Aspetta un attimo Allora ogni volta cambia Scusa Allora Di che colore era l'invidia perduta Verde Ma perché Ma scusa Ogni volta La risposta quindi non Non è sempre uguale Scusa Eh sì Ma è che uno può rimettersi Adesso Stesse cose Aspetta Aspetta Bla 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 Vediamo se Vediamo se Ho letto occhi marroni Di sfuggita Guerriera Vediamo se vedo Un numero 33 33 L'ho visto Io ho visto Un marrone Io provo a dire Marrone Ha visto Ok E adesso Ho visto 33 Mi ricordavo Un 33 Quindi ogni volta Cambiava Prendi la chiave Vabbè Qua è Iona Ok Ah questo Non lo sapevo Non lo sapevo Ok Abbiamo preso Il secondo Adesso Quindi possiamo Tornare Controlla Se è arrivata La lettera Esatto Ah ecco Ok Rifacciamo Il cumulo Di cerpame Poi ho quello Che ho fatto La prima volta Praticamente Oh ma Ma che chiama Guarda te Proprio Di lì Dove andare Ah ecco Un'altra scena Ah Ah Custa 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 Ci sono loro due anche dietro al relitto C'è un'ocche, perché non è solo il tempo che si tratta di essere un'occhezza Se non c'è un problema, non ti preoccupi Se non c'è un'occhezza, non ci si tratta di un'occhezza Ma non c'è un'occhezza, non c'è un'occhezza Ah, tu sei capire, è un'occhezza di un'occhezza, Popolo Ah, quindi... Cioè non ha l'involucro, non ha il replicant Quella della nave Mi sa che praticamente qua vediamo forse retroscena tra Devole e Popola, i dialoghi tra loro due Hmm, potrebbe essere interessante da questo punto di vista, però forse è un po' pochino, non lo so Nel senso, cioè se, adesso, non lo so, sto ipotizzando, però se per tutta questa terza run Le uniche scene extra sono legate a dei dialoghi tra Devole e Popola Dialoghi comunque importanti Forse potevano anche metterlo nella seconda run Cioè, vabbè Caro Leo, potenzialmente la tua arma è completa, puoi venire a ritirare in questo momento Voglio farti richiesta più personale, spero ne discuteremo quando dovrai ritirare la tua arma Presto almeno, fratello Vabbè, torniamo indietro Cioè, alla fine, sì, magari starà, durerà, boh Cinque, sei episodi, forse, o di più, forse sei, sette Ma sicuramente, non credo, arriveremo a dieci, poi, non so Eh, quindi è più corta, eh Sarà sicuramente più corta Però, per quelle scene extra, forse Un pochino Però, boh, vabbè Vediamo Torniamo al comune di ciarpame Ero, come ero messo, ce l'avevo Sì 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 Ok, rieccoci qua, carissimo Fuori di testa Sì Sì, non la vedi, ce l'ho sulle spalle Ah, grazie Sì 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 a it's so so this mamono to issue nil o kina robot o desu mamono to robot che o con de oro dato mamono la il noca hai Purtroppo Purtroppo così Allora andiamo anche qua Andiamo piuttosto diretti Adesso vediamo Non sto a battere ogni robot Anche perché li abbiamo già sconfitti Più e più volte Poi nella seconda run Mi sono messo anche La scala io la becco sempre Mi sono messo anche un pochino a livellare Qua dentro No poi non so La fabbrica forse è la parte Cioè come ambientazione Mi piace meno Le altre sì Molto belle Fronte mare Molto bello Ma anche il villaggio Il nido particolare La foresta dei niti Vabbè ok Però Come i charpame Non so Non mi piace Non mi piace granché Sì beh ovviamente Facciamo gli scontri obbligatori Per forza Ok Due colpi E vanno tutti Ok Ma così quanto li togliamo Direi un po' No No Ok Qua dovevo andare sul carrello Sì qui mettevo la barriera Vediamo se riesco a non metterla Spariamo Un po' Spariamo 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 Ok Ok va Eh va giù subito Questa è Un'esperienza facile Ok Ma no Ok Guarda Faccio anche così Olè No Ok Eh ma hanno tolto Un po' Eh no Massa Vedere l'esperienza Eh è un'esperienza Secondo me saliremo Un paio di livelli Secondo me Non credo Di più Però Posso anche sbagliarmi Se non mi metto a livellare Ovviamente Cioè Due livelli In tutta la run Ne 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 intendo Ahia Ok Andiamo Abbastanza Magari fammi mettere La lancia E ci va Un po' Fare Eh Un po' Si Attenzione Aia Ok Rega di memoria E tre Tre spadate E vanno Giù Ok Andiamo Qui Ah la lancia Andiamo Due Tre Tre No Vabbè Ok Comunque Poco Ok Ah Qui dovevo andare Su Ah qua ci sono Quelli volanti Quindi Sto fermo Questi qua Erano piuttosto deboli Eh infatti Sto fermo E sparo Ok A quanta Roba Potrei vendere Anche tutto Volendo Ok Tutto lo stesso Ok Sì Allora Probabilmente Ti danno La seconda E la terza run Di tempo Per prenderti Tutte le armi Forse Forse anche questo Visto Visto che Alla fine Finale B Te lo dice Il gioco Di Prendere tutto Cioè Tutte le armi Ok Ok Qua Qua Oh madonna No vabbè Vabbè che i diavoli si li abbiamo già letti Ok Però cioè quelli cerco comunque sempre di non saltarli va Eccoci qua Fηgl Ship Ok Rip Prendere tutto D닝 Fini I La La Di Path Quasi Ti Posso, ok Non gli faccio ancora nulla Non gli faccio ancora nulla Oh, forse finalmente riusciamo a fargli un po' di danno Aspetta Ah, questo se lo fai ancora, eh no Magari potevo fare il controattacco No Eh no, ho fatto il tunnel No No, sta barriera Eh, poi inizia a volare Ok 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 Nascutsu, 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 Soto, Sekai, Mirimimu. Mamoru, Tata Khan. Vediamo perché posso usare... Scusa, è solo la lancia per fargli un po' di male. Per lui non mi pare torni a terra. Non mi pare, non mi pare. Non mi pare, non mi pare, non mi pare. Scusate, non mi pare, Kuzugami. Mi pare. É, ok. Ora gli facciamo un po', eh. Aspetta Dissolve un po' di magia Porca Ok All'ultimo E ora si deve ricaricare un po' Ok, grazie Vabbè, fai niente, mi becca un attimo Ok Ok Mi manca pochissimo Ma comunque le ombre non si rendono conto forse Perché noi non capiamo, non lo so Vabbè che Non può porre fine La sua vita, purtroppo Questa è un po' di magia Questa è un po' di magia Pagano, non ci rendono conto forse Non ci rendono conto forse Non ci rendono conto forse Questa è un po' di magia Questa è un po' di magia Questa è una Questa è un po' di magia Ahahahah! Grazie a tutti Ok Mi hanno ricevuto la chiave Andiamo al villaggio Adesso c'era il nido Credo se non ricordo male Ah No 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 Ok No 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 Un po' extra per ora POPPORUさん 魔王の城の鍵の情報は何か分かりましたか そうそう ちょうどそのことで話したいことがあったの 崖の村は分かるわよね ああ あの憂鬱な者どもの陰気な村か それが最近はそうでもないらしいわ 崖の村の村長からの手紙よ ノ 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 何ぺ ノ ノ ノ ノ Noi che sappiamo però Sì beh lui aveva pensato di questo Ok però In realtà è un altro C'è Ci forniscono le soluzioni Così In maniera facile No no è proprio quello che vuole Che non sa niente Eh non sono più entrato qua Aspetta Grosità No vabbè tutti i boss battuti Ma fammi vedere un attimo Piano centrale Ma chi è il Il protagonista Dell'inizio Il nostro gestalt Foglia non saprei Questo chi era questo Ah sì ok La sorella di Emile Vero è vero No gli altri Ok Va bene Andiamo al nido Alla prossima Ok, prendiamo il nostro... Vabbè, andiamo pure, va. Vabbè... 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 Allora... Salvo però... Vabbè... però quelli di prima mi sa che erano gestalt a parlare comunque andiamo di qua ah vediamo se aspetta perché mi sa che l'uovo d'aquila la zona dell'uovo d'aquila è questa essendo questo il nido però magari è un drop raro però vabbè no pensavo per un'arma però no come ho detto ormai mi sono abituato a questa quindi direi che possiamo anche tenerci questa insomma ormai mi sono arrivati da popolo Ok adesso Andiamo di qua C'è quella guardia Seduta Madonna ok Sono salvato Qua aspetta mi vendi qualcosa Ecco vedi Aspetta già che ci sono Top prendiamo Massimo prendiamo tutto Ok Questa è se la mia moglie può fare un'escrizione da un'escrizione, ma... Sì... Un'escrizione... 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 Sì! Ok... Viene, andate giù subito... Ah giusto, potrei fare così, in effetti... Fare prima... Usulni... Un'escrizione... è una numero... E l'escrizione... Oh no... Il riel riel sia un'escrizione... Eh! E qui si accolent bringerell Ownise... facciamo così ok asciuccar difesa fisica più 20% vediamo no adesso ho difesa magica diciamo così ok e allora ok andiamo su di qua e ma dove passiamo noi non cresce più niente ok 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 non è possibile che non è possibile! Chai, ci sono? La mia è una persona è una persona, non è vero! Noi! 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 Noi, noni, noni! la mia moglie è già una genia se fosse un genio, non è una genia, ma mia, mia 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 moglie! C'è il mio figlio! Kainu! non so mi è venuto anche in mente magari questi qua del nido erano gente strana cioè hanno iniziato forse a essere gente strana che se ne sta chiuse in casa così ah no questo vabbè tanto lui non fa niente oh madò cioè hanno iniziato che ne so dopo Thoth perché nei racconti di Kainé mi sembrava agito normale questa parte che la trattavano come un mostro lei però poi la prima volta che noi siamo venuti qua e fino adesso loro sempre rimasti chiusi in casa e magari loro rimanevano chiusi in casa madonna per il semplice motivo che erano magari ombre cioè replicant con dentro l'ombra quindi umani e quindi non potendo uscire c'è sta luce del sole stavano dentro non lo so però magari mi sbaglio che queste ombre magari non volevano essere umani a tal punto come quella di fronte mare però volevano vivere in pace magari semplicemente attenzione e quindi e quindi e ormai questa qua quando mi esce il ritmo giusto no ok Alla Grazie a tutti Quindi anche questa dice il nostro villaggio Secondo me questi qua erano fin dall'inizio Ombre Ok Allora l'ignoro che tanto Fanno solo perdere tempo Posso fare solo un po' eare così Mento muoio uno subito Stiamo a sparare nel mentre Dai Adesso andiamo leggermente più veloci del timer Ok Adesso andiamo Adesso dovevo andare dietro vero? Adesso andiamo 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 Adesso e Alla prossima Sì, veramente, penso che appena si è avvicina. Togliamo un po' di ombre. Così. Questo attacco rotteante. Attenzione, il raggio fotonico. Io continuo a sparare in perterrito. Dov'è? Ah. Dovremmo essere. Ok, come prima. Sì, sì. No, no, no. No, no. Ma... ... ... ... Grazie a tutti. Il caso scoperto e l'ho trattenuto un caso positivo, eh però, no, poi te l'avevo già detto, però volevo rileggerlo. Grazie. Grazie a tutti. E' il sogno di un mostro, è il sogno di un mostro, la testimonianza di una tragedia, un peccato indelebile, vuoi entrare nei ricordi di me? No, anche questo l'abbiamo già visto. Direi che possiamo anche saltarlo, se è vero che c'erano anche i suoi ricordi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, abbiamo tenuto anche il terzo frammento. Ok, adesso quindi ci manca... Il relitto e il fedele cebero che è... Infatti va... Il fedele cebero e si è... No, scusa... Calvero dei ricordi... No, ma no, ci manca anche il relitto, c'è il sacrificio, origine robotica, calvero dei ricordi... Ah no, ma lì non ricevamo la chiave... No, infatti no, è vero... Comunque manca sempre il relitto, ovviamente... Il fedele cebero... Il fedele cebero... Diciamo la zona di facciata... Il fedele... Il fedele...